Ciao a tutti ragazzi, sono Dan e benvenuti nella 49esima puntata della STA, oggi siamo qui con... Pietro In poche parole siamo qui con Elie e Pietro Allora, Pietro ha la sua farm per il momento, vedremo un pochino come se la cava Ha la sua farm e... e... niente Come vi ho già detto, se qualcuno di voi vuole entrare... allora, vendiamo intanto il nostro orator vecchio che non ce ne facciamo niente Basta entrare su Discord, parlare e vediamo un pochino cosa fare Ora, è cominciato anche lui con i soliti 100.000 euro nostri e tutto quanto Cioè tutto quanto e nient'altro, ha la farm che aveva prima Elie, ha quell'arancione E basta, allora, mettiamo il nostro trattore un attimo qui in disparte Perché voglio un attimino vedere se c'è qualcosa che mi potrei comprare Abbiamo 87.000 euro, io cosa potrei... Sempre a comprare, stai, guarda Eh? Sempre a comprare, stai Eh, per forza Cosa mi potrebbe servire? Animali Uh, fammi un po' vedere i miei animali come stanno, poverini Guarda qua Elia, che prepotenza 936 Allora, le mie pecore Hanno bisogno di mangiare per caso? Cosa c'è quindi di rosso? La gaspardo magica è 140-90 Ok, hanno bisogno di mangiare Non più di tanto Ah, giusto, adesso volevo aspettare per fare... Salve, buongiorno Volevo aspettare per comprare una cosa Adesso voglio vedere i prezzi dove sono, qua I prezzi non sono altissimi, eh Perché se guardate non sono alti Però in teoria possiamo fare tanti bei soldini Perché se il prezzo è così, 132 euro ogni mille litri E qui sono... In teoria sono uno di questi due da guardare Non ricordo bene quale Uno è pallet di... Pellet Di fieno L'altro forse è pellet di qualcos'altro Comunque sta a fare qua Questo Olsis Sono 400.000 euro Il che vorrei comprarlo Però... Pallet di paglia e di fieno Penso che il pieno... Il fieno... Il fieno costi di più a farlo Eh, ma non ci occorre Per me non ci occorre Che te pigliano la paralisi Che c'hai? Te, tieni il pallet, oh Te Te, qua il pallet Ah, ti sei messo lì? Aspetta, che allora te lo porto qui Vabbè Il giornale c'è 3.710 Trasmissione, cosa metto? Quello lì esiste in tutti e due i modi Quindi scegli tu quello che preferisci Tipo io ce l'ho Invece posso... E lì c'è la manuale Sì, ma c'è l'automatico Quindi in realtà mi sembra esiste in tutti e due i modi Se non ho sbaglio Sì Quindi puoi sceglierlo tu Allora, porca miseria Dove mi sono andato via? Un lago addirittura Non sapevo manco ci fossero i laghi qua Niente, non c'è niente da comprare Tra l'altro qua piove Posso mandare avanti il tempo? Faccio dei casini No, non ti ho ancora Devo cominciare a seminare Quindi puoi mandare avanti il tempo Ok Mi dava fastidio Mi faceva venire Spegni tardi i cristalli Spegni tardi i cristalli Io vedo ancora che piove No, bisogna stare Ah, questo trattore c'è anche il bip Bip a seconda dei tassi che schiacci Oh, eccolo qua Ora gli devo mettere che ci può salire Giustamente Classificazione Veicoli Ok Perché io non so Volevo cominciare con quello lì Però Non so poi a cosa mi serve Magari per cominciare a portarmi avanti Potremmo vendere il 6R Volendo E Vabbè, oramai è tardi Se lo voleva lui Elia mi sposti un attimo al mezzo Per favore Ah no, aspetta Posso prendere questa strada Non mi serve che me la sposti Posso prendere anche Panni con cime Sì, sì Io adesso Ho fatto un po' una cavolata Beh, non credo ti interessi Il John Deere 6.210R Anche perché non penso Tu oramai abbi i soldi per comprare Quindi neanche Te lo sto a chiedere E dipende pure da quanto vuoi Perché dopo Eh no Io almeno 100.000 euro Li vorrei Quindi Non ha molto senso La ratro che ho venduto La ratro avrei potuto chiedere Se lo volevo Ma non ci ho pensato Proprio per niente E invece è scappato Comunque ragazzi Come vedete Usiamo anche un po' Il John Deere nuovo Per Per andare su strada Dato che è veloce E non è neanche Eh sì Il John Deere è nuovo Ho detto Il Deere è nuovo Dato che è veloce Con la Eco Questo qui Dovrebbe consumare Abbastanza poco Cambio automatico Ha solo 200 Solo Ha 250 Cavalli Quindi non sono 310 Da buttare via Come l'altro Non è il 6R Che non tira un tubo Questo qui in teoria È un buon trattore Ci ho lavorato un attimino Ci ho studiato un pochettino Su quale trattore prendere E non ho preso un T7 Tra parentesi Perché Questo qui Mi piaceva Come Eh Ho laggato leggermente Ho schiacciato Per sterzare Non ho mai sterzato E quindi questo qua Dovrebbe essere buono Come acquisto Non gli ho preso neanche Le ruote larghe Perché comunque Gli ho preso quelle di default Poi non erano default C'era scritto qualcosa Però vabbè Perché intanto Noi lo usiamo Per fare trasporti Cosa del genere Quindi ci va più che bene Ho spostato la trebia Nel capannone di là Così qui possiamo avere Tutti i nostri mezzi Sganciamo la zavorra L'unica cosa che non mi piace Che in Su farming Possono andare solo In 15 all'ora I mezzi in retromarcia Questa cosa non la capisco Cioè in realtà Potrò correre quanto voglio In retromarcia O l'inversore No Su farming In 15 all'ora Vediamo un pochino Di mettere qua No Non ho comprato nient'altro L'ora e niente Appunto Dato che facciamo Tanta erba Prendere quella cosa lì Dato che non l'ho mai presa Mi piacerebbe Perché vedremo Magari Potremmo vedere qualcosa Di innovativo Adesso poi Con la trebbiatura Quindi a breve Ci entreranno Dei soldi Però veramente Ci vorrebbe un po' Di più Che a breve Ma adesso vediamo Boh io ho dato Tre trattori Penso non li useremo mai Se ieri direi di venderlo Abbiamo già il 7310 Che Volendo Non riesco a salire Sul mio mezzo Non so perché Non riesce a salire Facendo tab No 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 Aspetta un attimo No Ho vogliato Così A me ci fa salire Guarda Prova un po' A venirci a piedi Magari Non so se C'è qualcosa A me fa salire Ho messo anche Da là Che potresti salire Non vorrei aver fatto Casini A livello di tablet Bene Eh Se non ho avanti Il tempo Ma ho trebbi Mi chiedere Eh No Ok Non perché Ma perché non ho il tempo Per trebbiare Stasera Quindi preferisco Che almeno Se stasera Andate avanti A seminare Almeno Crescono tutti a tempo Va bene Va bene Siamo A parte che Se vuoi Mando avanti Il tempo Perché comunque Una trebbiacella Potete usare voi Se voi Lo posso fare Così Eh Antò No Per che altro Non sei mai Eh Per che altro Salute Vabbè Vabbè Salutato per l'ultima volta SIR Molto odiato Da tutti Non tutti voi Perché nessuno Mi ha scritto Che è brutto Però Samu Elia Simo Grego Che altro C'è Leonardo Nessuno piaceva Sto trattore A me piaceva Ultimamente ha perso Tantissima potenza Superate le dieci ore Non tirava più Zero Proprio Quindi È l'ora di vendere Tanto non ce ne faremo niente Per tenerlo lì di bellezza Perché fa Perché poi questo Si che consuma tanto Come giro Non è neanche alto Comunque la eco Non serve un tubo Mi sembra A stare a 45 Consumava Forse poco Comunque andare Ad andare Per la strada Magari va anche bene Però andare Quando giravamo Consumava tanto Come la lama Non ce l'abbiamo Ah per i girasoli Cosa avete Perché Ah avete seminato Girasoli Samu mi aveva detto Che non li avrebbe seminati Oh chissà cosa c'è nella testa Sam Ben Io devo andare un attimo Va bene Allora Diciamo addio Il 6R 81.000 Cavoli Vendi Mi ha fatto piacere Non mi c'era ancora Tanto affezionato Però mi è dispiaciuto Un po' venderlo Quanto l'avevo pagato Io così Per curiosità Dov'è 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 Qua Allora Io l'avevo pagato Direct Uno l'avevo Quale 146 Me ne ha dati 84 87 Meglio di niente Tanto adesso C'abbiamo questo trattore No Non è il nostro Vario preso Non so se Sarà una bella scelta Averlo preso Vario Dato che non tira Forse avremmo dovuto dircelo Non ci ho mai pensato Mi dimentico Troppo le cose Quest'oggi Allora Vediamo un pochettino Questo avevo detto Che prendevo Ah Quello a fare là Ma non posso prenderlo Perché non ho 400.000 euro Che devi prendere Perché Eh Un trattore Prendo il gator Lo posso prendere Secondo te Quale è il gator? Eh Sui auto Alla luce presa Posso anche scegliere La trasmissione No Le ruote si però C standard design 2 Prendiamo il van Il van Non è in quanto tanto Poi che ci fai? Non ci faccio niente Ci cazzeggi Eh E con te li si possono portare i pallet Però vabbè capirai No tu ci puoi portare i pallet Però dopo te li scarica dentro Ah è vero la solita cavolata che hanno fatto C'era un carro che a me piacerebbe Si piacerebbe Forca miseria Come sto parlando Questo qua Meta mid DSH Però Ha tante configurazioni C'è bello Ganci Ci possiamo Configurazione Ecco la configurazione Abbiamo 37 tipi di ruote No ne abbiamo 3 Design Cassetta di attrezzi Cassetta di attrezzi più R Riflettori extra Ah Sarà riflettori extra Design Parafanghi Ah ragazzi Una piccola cosa Prima di chiudere la puntata Che devo scappare Abbiate pazienza Ma mi è venuto tardi Il La cassetta di attrezzi Uno di voi mi ha chiesto Mi ha detto di Di mettere alla moda Della cassetta di attrezzi Per configurare i mezzi Che praticamente Gli vai vicino Premi R Ed è come se Tu avessi Il punto di configurazione Eh Ho provato a metterla Ma il server non me la fa caricare Mi dice che è corrotta Sia se la carico io Sia se la carico direttamente Dal modab Gli dico di Passarla dal modab A server Non me la fa ricaricare Caricare purtroppo Quindi Boh Eh Non mi spiace Ma non posso Metterla Era una bella idea Molto bella Guarda qua quante balle Qua la lana Porca miseria Io suono le campane A quello che mi ha spostato La lana Tu non hai sentito Niente vero Lì Anche ieri sera L'arrabbi 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 Già ieri sera L'arrabbi L'arrabbi No no ma bravo Complimenti Adesso almeno Il comice da capo No bravo Eh Va bene dai ragazzi Io direi che per questa puntata è tutto Prima si sta valzando il prezzo Eh pian piano si sta alzando Da Dan Eh Un attimo Conto sta Eh L'ingirato Conto sta L'ingirato Da Dan Un attimo Sta a 587 Ed è abbastanza alto No È basso Ma io c'era Io c'era un Da 900 Eh infatti adesso è basso E la turbina la tocca parata? La turbina si 5000 euro Come al solito Si Un gorbo Eh All'altra volta abbiamo fatto 5 Io non so se siamo Tutti Vai Da Dan Vai E' tutto Ciao a tutti